. Armonterblen buonasera sono Armonerita. Buonasera il negozio di Armonterblen? si E sentete signore mi sta contando un episodio che mi è successo a mio marito Cosa è? E l'altro giorno è venuto in luogo si è cartero una cammese all'Armonde e niente lì mi è messa la vantata la vetrice si l'ha già cacciata se ne è fiume il tuo cane la coppa a camisa no, carico, ti è cambiata la camisa se ne è fiume il tuo cacciottino la coppa a camisa ah, ti è spaccato il bastotto dalla camisa bravo ora ti calma che quando c'è il tuo figlio torna sempre il tuo patrò o tu non essi lui nel tuo negozio se ne fossi tornata là perchè io non ho passato a camisa allora signora deve riportare la camisa al negozio dove l'ha comprata poi provete il negozio anche a inviarla a noi e noi le facciamo sapere ma ok, se ne fossi venuti tornata là non ho capito ok, non ho capito ok, non ho capito si, ho capito se ne fossi venuti tornata là eh, si, deve ritornare al negozio eh, signora, non ho capito non ho capito andate eh, gente, il tuo cacciottino se ne è fiume la coppa a camisa eh, ho capito la camisa la deve riportare al negozio tra il negozio fa il cambio la manda a noi e noi nel stato le facciamo il cambio eh, ma vedo come è venuto là signora signora signora, siete la titolare signora sono la signora Concetta da Casetta ho capito qual è stato il problema? che mio marito si ha comprato la camisa al luogo e quella si è sporcata e l'abbiamo messa nella lavatrice sì ho cacciato la camisa sì e se ne è fiuto il cane da sopra la camisa ma siccome che quando il cane se ne scappa ritorna sempre dal padrone forse vi potrete andare da là no signora, non è arrivata questa no signora, non è arrivata questa no signora, non è arrivata questa no signora